Venditalia 2024 continua, ci troviamo allo stand di Moac SPA, la torrefazione siciliana cresciuta moltissimo negli ultimi anni e siamo in compagnia di Francesco Minerba, il responsabile commerciale vending e OCS che finalmente dopo due anni vedo e saluto. Ciao Francesco, bentornato. Ciao Fabio, ben rivisto. Ci sono delle cose che sono accadute in Moac negli ultimi 24 mesi, parliamone. Certo, tanto buongiorno a tutti gli amici che ci seguono. In questi 24 mesi Moac ha continuato a crescere nel settore dell'OCS vending e soprattutto a portare soluzioni e novità per il gestore, che rimane il target di riferimento dell'azienda che ha intenzione di continuare a crescere in questo settore solo ed esclusivamente con i professionisti del settore che per noi sono i gestori. Quindi abbiamo continuato a crescere, a migliorare con i nostri sistemi chiusi in capsule, capsule compostabili, prodotto molto richiesto in questo momento, prodotto su cui l'azienda ha iniziato a spingere già due o tre anni fa e adesso continua a portarlo avanti con altre novità. Altri sistemi chiusi per il settore dell'OCS e del vending, soluzioni per permettere al nostro cliente di affrontare il mercato degli uffici, ma non solo, affrontare il mercato della famiglia, affrontare il mercato della ristorazione, affrontare il mercato della distribuzione automatica con i prodotti in grani dedicati a questo settore e ultimo anche soluzioni per affrontare un altro mercato che è quello degli hotel. Quindi grande richiesta di macchine semi-automatiche a grani che ribadiscono la richiesta di soluzioni green da parte del consumatore e la piena disponibilità dell'azienda a proporsi con soluzioni all'altezza di quanto il nostro cliente richiede. Voi in pratica siete qui per ribadire il vostro impegno e la vostra leadership in questa nicchia di mercato? Assolutamente sì, abbiamo ormai una rete di quasi 100 gestori in Italia e tanta rete all'estero. Il nostro cliente ci riconosce, siamo probabilmente diventati un protagonista del settore, o almeno ci piace esserlo ancora di più nel prossimo futuro. L'azienda ha investito tanto per arrivare in questo mercato con delle idee nuove e il mercato ci sta riconoscendo questo impegno. È una cosa che si percepisce tantissimo, anche e soprattutto da parte di coloro che sono al di fuori. Io sono passato più volte dinanzi al vostro stand negli ultimi giorni, eravate sempre tutti impegnati a dare spiegazioni. Se ora, stamattina, al quarto giorno, sei un po', come dire, distrutto, è proprio perché hai davvero dato tantissimo negli ultimi tre giorni e mezzo. Beh, la stanchezza è tanta, ma sono tantissimi anche i contatti e le richieste di avere i prodotti, di iniziare a distribuire, di iniziare a collaborare. Quindi va bene così, la stanchezza si supera, i clienti e gli amici soprattutto restano. Francesco, qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale poter scrivere per entrare in contatto con te, con voi? O direttamente tramite il sito caffemoac.com o l'indirizzo email info-caffemoac.com Oppure mi chiamano, tanto mi conoscono. Francesco Minerva, direttore commerciale della sezione vending EOCS per Moac SPA, grazie. Grazie a voi e saluti a tutti. Grazie a tutti.